Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. La parola di oggi è proprio l'ultima storia, perché più mi trovo a raccontarvi delle storie dalla storia, chiamiamole così, che siano le pilole, che siano gli aperitivi, insomma, quello che volete, più la racconto, più mi rendo conto di come la storia sia matrigna verso i suoi personaggi, sia decisamente matrigna verso tutti coloro che in qualche modo la storia l'hanno fatta. Perché ci sono grandi personaggi storici che vengono completamente dimenticati, nonostante abbiano compiuto grandi imprese o siano stati importanti per l'evoluzione dell'umanità, e invece persone che hanno compiuto piccole opere che per qualche motivo diventano leggendari, letteralmente conosciuti da tutti. C'è però un altro modo decisamente più irridente che ha la storia di trattare le persone, che è quello di prendere un personaggio che ha compiuto grandi imprese e renderlo famoso per la più piccola di queste, per un particolare, per una curiosità, quasi cancellando tutto il resto che hanno fatto. Ecco, la storia di oggi si basa proprio su uno di questi personaggi, che è ancora vivo, fortunatamente, quindi magari ha ancora modo di entrare nella storia in altri modi, e che si chiama Sergei Krikalev, classe 1958. Come tradisce il nome, è russo, o meglio, un tempo, quando è nato, era ovviamente sovietico, ed è passato la storia per essere un astronauta, ma non un astronauta qualunque, uno che ha compiuto qualche missione, insomma, nel NUG, poi diciamolo, essere un astronauta qualunque, già vuol dire poco, perché ancora di questi tempi, essere un uomo che è andato nello spazio è qualcosa di assolutamente incredibile, ma lui è uno tra i più importanti astronauti della storia fino adesso, quantomeno per il numero di missioni fatte. Pensate che è rimasto in orbita per più di 800 giorni, 803 giorni e 9 ore in totale, un tempo che addirittura fino al 2015 era al record umano di permanenza nello spazio, ovviamente non consecutiva, ma in più missioni. Bene, una persona del genere sicuramente già meriterebbe di essere raccontata solo come astronauta, ma è passato alla storia per altri due motivi decisamente meno interessanti. Il primo, per essere stato uno dei primi sovietici a bere una Coca-Cola, quantomeno su suolo sovietico. Il secondo, per essere quello che viene ricordato come l'ultimo cittadino dell'Unione Sovietica. Ed è questa ovviamente la storia che oggi racconteremo. Partiamo dall'inizio, dal 18 maggio 1991. Ora, che l'esplorazione spaziale, che il programma spaziale sovietico sia stato importantissimo per la storia dell'umanità, credo che sia inutile che ve lo venga a dire. Se avete seguito la nostra serie di pillole sullo spazio, in descrizione trovate la playlist. Pillole che peraltro, presto, spero riprenderanno per completare il percorso dell'Apollo, ma se l'avete seguite, ovviamente avrete visto, ma penso che molti di voi lo sappiano, che fino agli anni 70 i due progetti spaziali, quello sovietico e quello statunitense, procedettero quasi insieme in competizione l'uno con l'altro, aprendo letteralmente all'umanità le porte dello spazio, almeno quello vicino a noi. Progressivamente, poi, il programma spaziale statunitense aveva continuato a crescere, mentre quello sovietico aveva iniziato sempre di più ad arrancare, e la cosa era diventata ancora più evidente alla fine degli anni 80, quando, dopo uno degli ultimi grandi exploati sovietici, cioè la messa in orbita della prima vera stazione orbitante, cioè la Mir, che fu la prima stazione orbitante messa nello spazio dall'umanità nel 1986 e fu costruita dall'Unione Sovietica, dopo la messa nello spazio della Mir, il programma spaziale sovietico aveva iniziato a ricevere sempre più tagli ai suoi fondi, e questo, ovviamente, aveva costretto a ridurre le missioni, ridurre l'esplorazione e, in qualche modo, diventare sempre più secondaria rispetto, invece, agli statunitensi. Questa situazione, ovviamente, era, in realtà, il riflesso di quello che stava avvenendo politicamente, perché la fine degli anni 80 sono gli anni della perestroica, della perestroica di Gorbachev, del tentativo di rivoluzionare, o quantomeno rinnovare il sistema politico sovietico e quello economico, per permettere all'Unione Sovietica di riprendersi. Un tentativo che, come tutti voi sapete, fallì miseramente, con l'Unione che progressivamente si smontò. Quando partì per la missione che lo rese famoso, Krikalev, appunto, il 18 maggio 1991, partì quindi da un'Unione Sovietica che era già in forte subbuio, non solo dal punto di vista economico, ma anche proprio dal punto di vista politico, anche perché alcuni degli stati che la componevano, in particolare gli stati baltici, avevano già iniziato i primi passi per l'indipendenza. Insomma, uno stato che stava cambiando, area di cambiamento, ma quando lui partì per la sua missione, ufficialmente, l'Unione Sovietica ancora esisteva. Che tipo di missione era? Beh, erano missioni in realtà, per così dire, di routine. Erano partiti tra astronauti, due sovietici, appunto, uno dei due era Krikalev, e un astronauta inglese. Erano i primi anni in cui, era iniziato nel 1990, astronauti provenienti al di fuori dell'Unione Sovietica, molto spesso pagando, venivano mandati nello spazio utilizzando, ovviamente, i vettori sovietici, i tre avrebbero dovuto raggiungere, appunto, la Mir, la stazione spaziale costruita dai sovietici, che in realtà era poi un gigantesco laboratorio in cui venivano, appunto, compiuti esperimenti. Il nostro Krikalev era l'ingegnere che si sarebbe dovuto proprio occupare anche della Mir stessa, su cui, tra l'altro, i lavori stavano ancora continuando. Bene, sulla carta, ripeto, si sarebbe dovuto trattare di un volo di routine, ma le cose cambiarono subito dopo. Innanzitutto cambiarono il 19 agosto del 1991. Sulla stazione spaziale, quel era un giorno abbastanza particolare, perché, con una mossa, potremmo dire, decisamente commerciale, la Coca-Cola aveva deciso di spedire, nello spazio, insieme a Krikalev, anche una sua lattina. Ora, la cosa era già successa in passato con degli astronauti statunitensi, ma non si era trattato di una grande operazione commerciale, perché non era stato ripreso in televisione, poi, diciamolo, la Coca-Cola era già ampiamente conosciuta sul suolo degli Stati Uniti. Nel caso dei sovietici, invece, era un po' diverso, perché la Coca-Cola stava entrando solo in quegli anni all'interno dell'Unione Sovietica, le era stato dato il permesso di iniziare a vendere le prime bottigliette, le prime lattine, e quindi, dovendo lanciare la propria campagna, anzi, in realtà, praticamente ancora, l'Unione Sovietica non si vedeva in quel momento Coca-Cola, dovendo lanciare la propria campagna, aveva pensato di pubblicizzarla in questo modo. Ed era stato fatto un grosso lavoro. Ovviamente non era stata mandata una normalissima lattina, perché, peraltro, questa, aprendosi, avrebbe potuto creare dei danni. Si era pensato inizialmente di mettere la Coca-Cola senza le caratteristiche bollicine, ma si era pensato che il gusto sarebbe stato pessimo e questo avrebbe rovinato la pubblicità. E quindi, alla fine, si era creata una specie di lattina particolare che avrebbe allo stesso tempo mantenuto la Coca-Cola frizzante e anche fredda, insomma, tutto un lavoro di ingegneria che, ripeto, sarebbe stato fatto semplicemente a scopo pubblicitario. Ora, magari, oggi ricorderemo Krikalev per essere uno dei primi sovietici ad aver bevuto della Coca-Cola e avendolo, peraltro, fatto nello spazio. Insomma, ripeto, una bella pubblicità. C'è un problema. Il 19 agosto del 1991 è anche il giorno in cui, a Mosca, c'è il fallito, che poi durerà tre giorni, colpo di Stato, ai danni del governo sovietico, ai danni di Gorbachev. Un colpo di Stato che, a tutti gli effetti, pose fine all'esperienza dell'Unione Sovietica. Perché subito dopo il fallimento di quel colpo di Stato l'Unione Sovietica semplicemente si dissolse con i vari stati che, uno dopo l'altro, a cominciare peraltro dalla Federazione Russa, dichiararono la propria indipendenza, misero fuori legge il Partito Comunista, gli tolsero il potere dell'Unione Sovietica, dichiararono, ripeto, uno dopo l'altro, la loro indipendenza e sciolsero l'Unione Sovietica. Mentre Krikalev si trovava nello spazio, il suo Stato di partenza smetteva semplicemente di esistere e tutti i suoi concittadini progressivamente smettevano di essere cittadini dell'Unione Sovietica e diventavano cittadini di uno o dell'altro Stato che molto spesso entrava nella nuova Confederazione degli Stati. Indipendenti, che era nata dalle ceneri dell'Unione Sovietica. Tutto questo Krikalev lo sapeva? Beh, cosa sapesse esattamente non lo sappiamo. Di certo era informato degli stravolgimenti politici, anche perché ad un certo punto aveva iniziato ad avere dei collegamenti con alcuni radioamatori sulla Terra che, se tutto non gli veniva magari detto dai vertici politici e dai vertici a terra dell'Agenzia Spaziale Sovietica, che stava progressivamente diventando Agenzia Spaziale Russa, qualcos'altro invece gli veniva detto dai radioamatori. Ma in realtà lui se ne accorse ben presto, anche perché sulla carta la sua missione sarebbe dovuta terminare dopo pochi mesi e sarebbe dovuto tornare indietro sulla Terra. Peccato che quel viaggio, che avrebbe dovuto riportarlo indietro, venne abortito. Di due missioni programmate per portare e riportare indietro degli astronauti, ne partì una sola. E dato che in quella missione, sempre per motivi di risparmio, non c'era un nuovo ingegnere, che avrebbe potuto occuparsi della Mir, venne chiesto a lui di rimanere ancora nello spazio. E così lui fece. C'è una leggenda metropolitana, una leggenda che dice che in realtà lui fosse stato abbandonato sulla Mir perché non potesse rientrare per motivi legali a terra, perché, così diceva questa leggenda metropolitana, essendo cittadino sovietico e non essendoci più l'Unione Sovietica, il suo passaporto non avrebbe avuto valore. Ora, è ovviamente una leggenda metropolitana, anche perché tutti i cittadini dell'Unione Sovietica avevano poi, si erano poi uniti a uno o all'altro Stato e per lui sarebbe stata la stessa cosa nel momento in cui fosse tornata a terra. Credo che nessuno avrebbe abbandonato un uomo nello spazio per problemi di passaporto. Si trattava invece, appunto, di problemi economici, in quel momento di transizione in cui, peraltro, gli stessi rapporti all'interno degli Stati per motivi spaziali erano complicati perché la zona Baikonur da cui partono le missioni spaziali non si trova nel territorio della Russia, ma si trova nel territorio del Kazakistan, quindi, insomma, la situazione necessitava anche di alcuni accordi tra i vari Stati. Ebbene, in questa situazione confusa, ovviamente, nessuno aveva intenzione di spendere molto denaro per delle missioni spaziali. E lui, semplicemente, si trovò in mezzo a questo periodo, diciamo, di tagli e di risparmi necessari. Alla fine, però, nel marzo del 1992, finalmente poté tornare a terra, accompagnato, peraltro, da un altro compagno sovietico che, però, a differenza sua, era partito quando già l'Unione Sovietica si stava frantumando. E quindi, al suo ritorno a terra, Sergei era, a tutti gli effetti, così viene ricordato nella storia, l'ultimo cittadino dell'Unione Sovietica. E, come vi dicevo, un astronauta che ha passato più di 800 giorni nello spazio, ingegnere importantissimo, insomma, veramente uno dei astronauti più importanti dell'esplorazione spaziale, viene ricordato per questa piccola, piccola curiosità. Io mi fermo qua. Ne ho approfittato anche per raccontarvi un po' di questo mondo che cambiava. Un giorno o l'altro faremo una serie dedicata alla caduta dell'Unione Sovietica, perché è veramente molto, molto interessante. Ma, come sapete, di serie ce ne sono tante in programmazione, ma prima o poi arriverà anche questa, lo giuro. Ad ogni modo, volevo ringraziare per questa pillola, Orso Ciondolone, che mi ha consigliato e mandato anche qualche link per poterla preparare, mi ha consigliato questa pillola parecchi, parecchi, parecchi mesi fa. Ma, come dico, a tutti quelli che mi consigliano delle pillole, mi mandano del materiale, anche se non la vedete pubblicata subito, io non me la dimentico. La metto, metto tutto il materiale nel cassetto, e poi lo tiro fuori, perché in questo momento la timeline delle pillole della Peristoria è già abbastanza piena, e poi la tiro fuori. Quindi state tranquilli che io non mi dimentico niente, se vi ho detto che è un buon materiale, ci posso fare una pillola, prima o poi quella pillola verrà fatta. Quindi, da quel punto di vista, assolutamente tranquilli. Quindi, io ringrazio ancora Orso Ciondolone per tutti i commenti che fa, e per questa pillola, tutti quelli che me lo mandano, e credo alla vostra salute a questo punto, come tradizione quando parliamo di pillole russe, o sovietiche in questo caso, una buona vodka, e alla vostra salute. A presto!